Ci risiamo e ancora una volta a Prato la tappa dell'esodo degli sportivi aquilani. Nel recente passato era toccato ai neroverdi del rugby giocarsi gli spareggi per l'accesso alla massima serie. Oggi è il turno dei rosso-blu del calcio. 800, forse anche di più, i supporters al seguito della squadra, un entusiasmo accesosi di colpo e che ha investito tutta la città. Il 3-2 dell'andata è risultato positivo, anche se la qualificazione alla finale poteva già essere ipotecata senza quei 5 minuti di blackout che permisero ai toscani di rientrare in un match che sembrava chiuso. E proprio sulla scia della grande prestazione di domenica scorsa, il tecnico Maurizio Ianni potrebbe confermare 11 iniziale e modulo. A preoccupare sono solo le condizioni fisiche del difensore Ruggero, alle prese con un fastidio muscolare. Ianni scioglierà il dubbio solo nell'immediata opregara e pronto comunque di Francia ad affiancare Garaffoni. Rientra Onesti da squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina, così come lo scalpitante Potenza. Ed è scivolata via senza grossi problemi anche la settimana del Prato. Lamma, Zagaglioni e Pagliuca hanno svolto lavoro differenziato ma saranno al loro posto in campo. Mister Bellini recupera Malomo mentre Basilico, come all'andata, potrebbe giocare una mezz'ora se il Prato non dovesse riuscire a trovare la via del gol. Crescono le quotazioni di Silva Reis, indiziato numero uno per affiancare in avanti Bomber Varricchio dal primo minuto. A lungo Bisenzio, fischio d'inizio ore 16, arbitra Fabio Aureliano della sezione di Bologna. Grazie.